Buongiorno, il libro che ho riletto e di cui parlo oggi è questo qua, il responsabile delle risorse umane che Yoshua ha scritto nel 2003 o 2004, è stato pubblicato nel 2004. Di che cosa parla questo libro? Allora è un'emigrata dalle repubbliche ex sovietiche che lavora ingegnere che lavora in Israele però come ha detto alle pulizie in una fabbrica di pane, panificati vari e che muore in un incidente, in un attentato suicida, non in un incidente. Non si sa nulla di questa donna per una settimana finché un articolo di giornale evidenzia che questa era una dipendente di questo panificio. Il responsabile delle risorse umane di questo panificio non che la proprietà del panificio non avevano presente questa donna perché era un po' di tempo che non lavorava da loro. E allora che cosa succede? Succede che a causa anche un po' di una spinta di un giornale che mette in luce gli aspetti negativi, anzi scandalizzato perché questa ditta non fa nulla per questa dipendente eccetera, anzi è stata una settimana in obitorio senza che nessuno la riconoscesse, beh insomma decide il direttore di fare qualche cosa. Fare qualche cosa significa occuparsi dei funerali, occuparsi di un eventuale indennizzo ai figli e all'ex marito, insomma una sorta di senso di colpa nei confronti di questa donna per la quale insomma non è stata fatta nulla, anche spinti poi dal giornalista. Chi si occupa di tutto questo è appunto il responsabile delle risorse umane della ditta, ora il quale comincia a informarsi del nome di questo quadro, di viveva, che situazione aveva, i funerali, tutto quanto, con tutta una serie di colpi di scena, che ovviamente non sto qua a raccontarvi, ma che rendono il libro interessante, insomma è piacevole da seguire. Bene e rispetto all'ultimo libro che ha scritto, cioè la sposa liberata, certamente questo libro è io direi più leggero, nel senso che non si addentra con estrema, come dire, con tutto il testo dentro i più grandi problemi di Gerusalemme, sì, e dell'Israele, sì, certamente questa donna è emigrata dai paesi ex sovietici, certamente insomma vengono messi in luce gli aspetti anche per esempio degli attentati suicidi e così, però con un linguaggio, con un tono che a mio parere sono molto più leggeri, molto più, così, un bel racconto ecco, più che un'analisi e una disamina dei problemi pratici e anche così culturali di Israele di quegli anni, siamo nel 2004, quando c'è stata questa intifada caratterizzata appunto da tutti questi suicidi negli autobus, un po'. Ecco, è un bel libro da leggere, insomma, ecco qua, il responsabile delle risorse umane, il quale subisce fra l'altro in tutta questa avventura un cambiamento, prima era una persona abbastanza fredda possiamo dire, abbastanza bene. Non c'è un libro che fa così poco partecipe nel potersea umano appunto e qui assistiamo anche a una sua trasformazione che lo rende un pochettino più attento, più umano a quello che succede intorno a sé. Ecco, volutamente io non vi ho raccontato una gran parte del testo perché veramente mi sarebbe inutile poi leggerlo, ma ve lo consiglio, insomma, un bel libro che si legge abbastanza bene. Bene, no, abbastanza bene. Buona lettura a voi responsabile del risorso umano di Abraham Yoshua.